Professor Achille Gaspari, un incontro al vertice delle università abruzzesi con il magnifico rettore di Ilio, con il magnifico rettore di Orio per parlare del futuro dell'eccellenza degli studi in Abruzzo. Esatto, questo non è una convention elettorale come potrebbe sembrare ma è proprio una riunione di studi perché la politica si deve caratterizzare per serietà, i problemi vanno studiati e approfonditi, è quello che faremo esattamente oggi pomeriggio. Dalla sua esperienza di studente abruzzese e poi da docente fuori dall'Abruzzo, quale potrebbe essere il mix vincente per la nostra regione? Il mix vincente per la nostra regione è un rilancio delle nostre università per aumentare il numero degli studenti e per aumentare le possibilità di ricerca per i nostri ricercatori che sono bravissimi. La capacità di attrazione degli studenti può essere aumentata come? Con le strutture, con la qualità dei docenti o come ancora? Esattamente tutte e due le cose che lei ha detto, migliorare sempre di più la qualità dell'insegnamento e rendere le strutture più efficienti. Grazie a tutti!